Oggi parliamo di un particolare molto importante del CyberCab, poi un bel traguardo per la Giga Shanghai e torna per ora negli Stati Uniti il passaggio dell'FSD. A tra poco! Bentornati all'Ampidi Tesla, ormai l'evento del 10-10, la presentazione del futuro dell'automazione, grazie del suggerimento per la traduzione, continuo a far parlare di sé perché abbiamo seguito l'evento in live, ieri ho fatto un video dedicato completamente all'evento e vi ringrazio tantissimo per i tanti commenti ricevuti che mi hanno fatto veramente tanto tanto piacere e continuo a parlarne perché ci sono un paio di foto molto interessanti della parte anteriore del CyberCab quindi del mezzo che abbiamo visto per la prima volta proprio durante l'evento quindi parliamo del veicolo dedicato al robotaxi senza volante senza pedali il particolare della parte anteriore intanto la rivediamo così un po più nel dettaglio quella barra led secondo me è magnifica cioè il design a me piace veramente veramente tanto se noi andiamo a vedere un po più da vicino guardate un po cosa ci troviamo una bella telecamera anteriore quando l'avevamo vista l'avevamo vista in quelle immagini che sono apparse sul sito Tesla e poi scomparse quando è stata presentata la nuova Model 3 perché inizialmente era presente questo tipo proprio di setup con la telecamera e poi è sparita effettivamente non c'è nella nuova Model 3 la ritroviamo nel CyberCab sappiamo che la telecamera interiore è presente nel CyberTrack ma a oggi sembra che non sia utilizzata per autopilot sappiamo anche che molto probabilmente questi veicoli avevano già montato diciamo a livello sperimentale l'hardware 5 o AI 5 come l'ha definito Elon molto probabilmente sono tutte speculazioni cosa vuol dire che d'ora in poi tutti i nuovi veicoli Tesla magari anche la nuova Model Y che arriverà forse l'anno prossimo avranno la telecamera anteriore? Beh non è detto potrebbe essere semplicemente un esperimento perché so per certo che comunque l'hardware 5 e AI 5 non è ancora definitivo ma stanno ancora continuando a sperimentare potrebbe diventare uno standard cosa che sarebbe anche auspicabile anche se non per il Tesla Vision quanto meno per avere una visione della parte anteriore sullo schermo perché no? Non lo so però sta di fatto che c'è nel CyberCab non si sa se poi nella versione definitiva ci sarà non si sa se i nuovi modelli ce l'avranno però volevo farvela vedere e ora invece cambiamo argomento perché torniamo a parlare di produzione di auto reali perché la Giga Shanghai che sta battendo tutti i record ha raggiunto un obiettivo estremamente importante perché ha sfornato l'auto numero 3 milioni la 3 milionesima auto uscita dalla Giga Shanghai ricordiamoci che la capacità a oggi della Giga Shanghai supera il milione di auto però Tesla già da un paio d'anni si attesta attorno al milione ricordiamoci anche che la prima auto uscita dalla Giga Shanghai è stata circa gennaio 2020 quindi in meno di 4 anni Tesla ha prodotto la Giga Shanghai 3 milioni di auto che non sono poche non sono assolutamente poche e considerate che ovviamente la Giga Shanghai rimane la fabbrica più prolifica per Tesla perché la Giga Berlin è arrivata settimana scorsa a 400 mila auto totali ovviamente altre dimensioni altri obiettivi in espansione comunque anche Fremont ovviamente ha un ratio di produzione inferiore perché comunque è una fabbrica più vecchia e ha raggiunto probabilmente il suo limite di sviluppo e il Texas è in sviluppo quindi davvero un ottimo lavoro e tra l'altro anche guardando le vendite in Cina dell'ultimo periodo quindi sia del Q3 che a livello settimanale dell'inizio del Q4 Tesla ha ripreso molto bene quindi vedremo cosa succede nel Q4 sarà molto interessante da valutare torniamo a parlare di un argomento super discusso che è il passaggio da un'auto all'altra quindi comprando una nuova Tesla del pacchetto software che riguarda l'autopilot in particolare dell'FSD per ora supervised americano perché Elon ha detto più volte sì ve lo concedo questo trimestre però poi basta l'ultima volta diciamo che anche nell'ultima riunione con gli investitori lo ha concesso per il Q3 però è detto l'ultima volta perché in qualche modo devo venderlo beh torna anche per questo trimestre perché negli Stati Uniti è uscita proprio l'11 ottobre la comunicazione che fino a fine anno è possibile trasferire l'FSD a una nuova Tesla le procedure sono sempre le stesse quindi bisogna avere entrambe le auto contemporaneamente nel proprio account per almeno 48 ore o una roba del genere e solo in quel modo si può trasferire sulla nuova Tesla ricordo che negli Stati Uniti costa 8 mila dollari e che da noi non ci sono notizie in merito chissà se arriverà anche da noi ovviamente da noi l'FSD ha tutt'altro senso quindi chi l'ha comprato si trova ad avere comunque un prodotto che è lì e io lo renderei trasferibile quantomeno finché non arriva davvero l'FSD anche in Europa in automatico perché io per esempio ce l'ho ce l'avevo anche sulla Model 3 precedente che avevo sinceramente non l'ho praticamente usato perché non mi dà quasi niente in più rispetto all'autopilot avanzato e secondo me Tesla dovrebbe renderlo automatico quantomeno per chi lo ha comprato in Europa a questo stadio dando fiducia ovviamente alla casa automobilistica quindi Elon visto che guardi i lampi cortesemente rendilo automaticamente trasferibile almeno finché non arriverà anche da noi l'FSD inteso come l'FSD americano comunque buono per gli Stati Uniti quantomeno per ora e ora comincio con la valanga di ringraziamenti a seguito insomma della live del video di ieri e sono stati veramente tanti tanti messaggi e tante persone che hanno voluto supportare il canale quindi intanto dico grazie a tutti piano piano vi ringrazio tutti e comincio con Cristiano che mi ha scritto è il minimo che possa fare e meriti molto di più per quello che fai per l'impegno purtroppo questa mattina non ho potuto vedere la live però l'ha vista in differita beh e attenzione Cristiano mi devi ancora mandare la foto del ritiro della tua Tesla di giugno quindi mi raccomando comunque grazie mille davvero per il supporto poi un grande ringraziamento anche ad Andrea insomma di solito lui supportò il canale quando facevo i video sulla 500 ora la 500 non c'è più ha comunque ritirato la Smart ve l'ho detto ne parleremo poi la 500 non c'è più però ha voluto comunque supportare il canale grazie mille davvero tanto Andrea e poi un saluto anche a Jonathan dalla Svizzera anche lui insomma ha voluto supportare il canale mi ha scritto un bellissimo messaggio su Whatsapp perché insomma ci conosciamo ci siamo anche visti più volte e non ve lo leggo un po' lungo però hai scritto delle bellissime parole e ti ringrazio davvero tanto grazie grazie davvero e oggi concludiamo con Ruggero che mi ha scritto per la levataccia di oggi seriamente parlando grazie per il video di questa sera sono completamente d'accordo con te si riferisce a quello di ieri sulla visione che hai di Tesla e che Tesla ha del futuro l'ho capito seguendo i tuoi video giorno per giorno a presto beh questo riassume un po' il senso del video di ieri sera e mi fa piacere che il messaggio sia passato a tantissimi di voi quindi ribadisco il mio ringraziamento e vi ricordo che domani domenica esce il nuovo video su Dashcam Italia con Paolo quindi se non conoscete il canale lo abbiamo aperto settimana scorsa così per giocare per divertirci dove commentiamo i video delle Dashcam e sarà il primo video dove metteremo le Dashcam che ci avete mandato voi e quindi insomma se volete domani ci sarà la prima vera puntata di Tesla Cam Italia questo è tutto per oggi vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima ciao